Buongiorno, buon inizio settimana a tutti voi. Oggi è lunedì 5 dicembre 2016. Questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, che comincia come sempre con l'abitudine di guardare il santo del giorno. Il santo di oggi è un beato, il beato Niccolò Stenone, che è nato a Copenaghen nel 1638. Il sole è sorto alle 7.25 e tramonterà alle 16.32. Siamo nella seconda settimana di avvento. Andiamo adesso a vedere le previsioni. Il cielo per oggi sarà nuvoloso per nuvole basse in parziale dissolvimento con schiarite dal pomeriggio e dalla sera. Le temperature sono in diminuzione per la giornata di domani. Il cielo, vedete, sarà ancora nuvoloso per nuvole basse con le temperature in lieve aumento. Poi condizioni stabili poco evolutive per il resto della settimana. Prima però di andare a leggere i giornali, anche perché oggi c'è il Carlino con l'inserto delle Marche, quindi poche pagine, così come il Corriere Adriatico, danno spazio allo sport. Allora andiamo subito a vedere l'esito del referendum, ma anche nelle Marche. Ormai sapete tutti quanti, ha vinto, stravinto, anzi il no. Renzi ha dato le dimissioni. Oggi andrà dal Presidente della Repubblica, Mattarella. Dicevo, andiamo sul sito occhianotizia.it per vedere velocemente il titolo d'apertura. Sul referendum scrive nelle Marche il no vince con il 55%, pesa roboccia la riforma. Allora vediamo che cosa scrive il nostro sito. Con uno stacco di 10 punti, 55% contro 45%, i marchigiani hanno votato no al referendum sulla riforma costituzionale. Un risultato netto consolidato da un'alta affluenza alle urne dove si sono recati 866.233 cittadini pari al 72,84% degli aventi diritto. Il sì ha prevalso a Urbino, 52,1%, mentre a Pesaro la battaglia è stata fino all'ultimo voto. Pensate, il 50,01% per il no e il 49,9% per il sì come dato finale. Dunque diciamo anche che nella regione Marche l'affluenza al voto è stata superiore alla media italiana, l'abbiamo già detto, i votanti più di 850.000 e a Pesaro dove alle urne si è recato il 76% degli aventi diritto abbiamo detto che il no vince per soli 99 voti in più rispetto al sì. Quindi 28.144 quelli che hanno votato no contro i 28.045 che invece hanno votato sì. Questo a Pesaro. E Pesaro perché lo prendiamo come esempio, come spunto, non solo perché è capoluogo di provincia ma anche perché ha come sindaco Matteo Ricci che si è speso fino all'ultimo, fino all'ultima forza insieme al Premier Matteo Renzi per convincere anche i suoi cittadini a votare per la riforma e quindi è un dato che va adesso in qualche modo analizzato. Andiamo a vedere adesso invece i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, la prima pagina del Corriere Adriatico. Non c'è in questo caso, non ci sono riferimenti al referendum, il Corriere è stato chiuso ieri sera, insomma entro le 8, entro le 20, quindi ancora c'erano diverse ore davanti, tre ore prima della chiusura dei seggi. Famiglia, stress da bollette, questo è il titolo d'apertura, uno su quattro, una famiglia su quattro non ce la fa. In dieci anni sono aumentati i nuclei che contraggono i debiti e pagano in ritardo. A centro pagina invece il Fano ancora sconfitto in casa, la Visi invece recupera, la Consul Teamvest, vittoria pesantissime, i pesaresi passano a Cremona e lasciano alla Vanoli l'ultimo posto in classifica. Questo è un purpurì di sport con la serie, la Lega Pro, poi la serie D con la Visi che vince e poi c'è anche spazio per il basket. Dicevamo delle bollette, le bollette SOS Famiglia, una su quattro non ce la fa rispetto al 2005, sono in aumento i nuclei che contraggono i debiti. Sfruttati invece, sempre da Pesaro, sfruttati senza tetto, pensate a garage affittati in nero. La denuncia è dell'associazione Pesaro Solidale che chiede adesso più controlli. Ci sono quelle persone che vivono purtroppo nell'indigenza, che non hanno soldi, non hanno un reddito, non hanno nulla e che, gente di passaggio, che ha perso il lavoro, che si ritrova sulla strada e che viene ospitata in nero nei garage. Una segnalazione nella zona del campo scuola, accettano perché non sanno dove andare. Questa è la denuncia di Pesaro Solidale. Ancora dal giornale, dal Corriere Adriatico, la pagina di Fano. Primo shopping natalizio, è caos però calmo, centro affollato ma pochissimi sono gli acquisti in centro storico. Dicembre si apre con il freno a mano, Confcommercio dice gli eventi ottimi, non cambiano la sorte dei consumi, c'è crisi, una volta per le festività si incassava l'equivalente di 3-4 mesi, dice Renzo Capecchi, presidente della Confcommercio di Fano. Adesso invece l'aria è assolutamente cambiata, è un momento negativo per l'abbigliamento, meglio l'oggettistica e da Taussi si punta sulla barba. Questa è la pagina di Fano del Corriere Adriatico. La seconda pagina, sempre sul Corriere di Oggi. Terra Nostra vuole prevenzione e protezione, una consulta urbana contro furti e vandali. La proposta di Francesco Verzotti al Sindaco Seri si mettono insieme associazioni, comitati e comuni. Poi ancora dalla Valle del Cesano la cronaca con il delitto Bellucci, Lucia Bellucci uccisa a 31 anni dall'ex fidanzato Vittorio Ciccolini, lo vedete qua sulla destra, infermità mentale, c'è questa nuova strategia che punta l'infermità mentale per il suo ex fidanzato. La Cassazione a febbraio, il reo confesso, condannato a 30 anni, si aggrappa alla diagnosi medica. E ancora da Senigallia, negozi aperti anche il lunedì, così si riparte con lo shopping. La sperimentazione inizia già oggi, si corre il rischio caos per gli orari. Andiamo sul resto del Carlino, via Giolitti, pedoni come Birilli, troppi investimenti, monta la protesta e poi, sempre dal resto del Carlino, arrivano da Ascoli 3.000 tonnellate di rifiuti, siamo a Fano, destinazione di scarica di Monte Schiantello, dirottati dopo che l'area di Corrinaldo attende di essere ampliata. Un abbancamento per massimo di tre mesi, l'assessore Mascherini dice verificheremo con Aset. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi, grazie per la vostra attenzione, vi auguro una buona giornata e vi aspetto stasera alle 20.30 con il Tg Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.